E' iniziata con Rogerio, parte Berardi, gol! Sassuolo in vantaggio, la palla colpita, vedete? Rasoterra passa sotto le gambe di Skriniar, si alzano tutti Palla recuperata, Rafinha, siamo al limite, la tocca per Brozo, carica al destro, il tiro! Miracolo di consigli! Si può andare a metterla al centro, palla all'indietro per Brozovic, controlla Gliela toccano via Skriniar, Rafinha, bravo, a ballare là in mezzo alla polvere Poi con il destro, respinta a corda di consigli, Cardi non ci arriva Palla che prova a servire per Perisic, posizione regolare, non passa, la palla è buona Candreva, prova ad andare al tiro, fuori, deviazione in corner Parte Perisic, servito, posizione regolare, aggancia bene, eccola per Mauro E' solo il miracolo di consigli, ma non ci voglio credere! Rivediamo la clamorosa occasione per Mauro Icardi con la parata incredibile di consigli Arbitro dice che basta così, finisce il primo tempo con il Sassuolo sopra per una rete a zero Prova ad andare, palla sul mancino, palla poi sul destro, cross, sporcato Attenzione Rafinha, il tiro, salvataggio, incredibile, Perisic, porta vuota Ancora salvano e l'arbitro vede un'irregolarità Vessino la manovra, vediamo chi lascerà il campo Brozovic cerca Perisic, bella l'infilata, Perisic entra in aria Icardi, il miracolo ancora di consigli! Attenzione, Berardi, parte in dribbling, va al tiro, gol, che gol ragazzi 2-0 Sassuolo Rivediamo Berardi che fa veramente una grande giocata D'Ambrosio per Rafinha, lo attacca a Missiroli Rafinha esterno per Perisic, l'uno contro uno Gioca al limite, palla per Rafinha, tenta il tiro Palo, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, Riccardi! La sponda dovrebbe essere di Riccardi Dai, 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 dice Rafinha, vediamo Il tiro, no, 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 non la tocca nessuno È una palla a giro di Rafinha Al minuto 35 Si riapre il match, dai ragazzi, crederci! Fino alla fine c'è ancora 10 più recupero La recupera Gioca Anselo, pronto a controcrossa Cercare Eder, la sponda, Icardi! Ma non ci credo! Ma non ci credo! Ma non si sa come hanno respinto Perisic, cross, Icardi esterno rete! Dai ragazzi! E ripartiamo con Canselo Che porta il pallone oltre la linea mediana del campo Poi cerca subito la profondità per Icardi Pallone che rimane lì Arriva Eder, il tiro! Salvataggio di Acerbi Palla lunga per Perisic Cerca la veloce su Icardi Eder entra in aria Eder, il tiro! Ancora consigli! Karamu è Perisic Perisic entra in aria Salta l'uomo Palla fuori Bronzo vici il tiro In tribuna! Finisce con la vittoria del Sassuolo Sorprendente risultato Con i nero-verdi che spugnano il Meazza Grazie a tutti!